Ciao ragazzi, oggi ho fatto una gelata di pesca, un light rock fishing, che si può praticare veramente ovunque, basta sia in zone portuali, dove è consentito, in zone di sport. Portarsi dietro dei miei bar warm, delle gomme e dei micro gig head, in questo caso ho utilizzato il 4 grammi, la misura 6, l'amo e la misura 4. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.